Eccoci qua ragazzi, allora purtroppo come avete visto si è appena chiuso il mercato avendo molte partite sotto mano non ho fatto in tempo a seguirla prima questa partita a farvi uno storico o meglio un'analisi dettagliata di questa partita come vedete abbiamo portato a casa 73 euro di profitto questa che vedete a destra è solo una delle scommesse che sono state effettuate sono state abbinate sul mercato è un'operazione che è stata passata con successo in pro trading il mio prodotto professionale sul trading sportivo ispirato appunto alla mia operatività personale qui ne vediamo un match, ne vediamo un esempio e questa è una partita dove se andavi come al solito ad osservare le statistiche avresti visto che non ci si aspettavano 3 gol o comunque più di 2 gol perché? Perché queste sono squadre che a fasi alterne riescono a realizzare reti e a subirne e sono squadre che riescono pure a pareggiare o a fare risultati molto molto piccoli quindi magari vincere o perdere per 0 a 1 o 2 a 0 questa però è un'analisi che nasce da un valore operativo trovato sul mercato eccezionale quando ho passato questa operazione di mercato in pro trading la quota era 1,78 ovviamente io sono entrato sul mercato poco dopo perché prima passo l'operazione cliente e poi entro sul mercato proprio per evitare qualche problema di tempistica e sono entrato a quota media 1,73 questa è la quota dove sono entrato ed è praticamente una quota di valore quindi figuratevi a 1,78 quello che poteva essere una quota che ha fatto più solitamente senza andarci a complicare la vita poi spiegheremo a livello tecnico come si muove il mercato già in altri video ne ho parlato però è una quota che viene mossa da quello che la maggior parte degli operatori sul mercato ritengono su questa partita quindi sono le aspirazioni e sono le previsioni di quello che molti operatori sul mercato molti scommettitori amatoriali decidono di entrare la posizione che decidono di prendere tanti scommettitori amatoriali ed è una posizione che per noi con quella quota lì aveva un immenso valore operativo non a caso al 0,58 abbiamo subito incassato profitto abbiamo subito portato a casa profitto un'operazione che se non sbaglio è stata data al 33esimo del primo tempo quando già il Crotone era passato in vantaggio sul Parma ecco strategia over 2,5 parliamo di questo parliamo di due squadre il Crotone e il Parma che bastava vedere in maniera molto veloce il match in live per vedere che erano squadre che giocavano abbastanza alte squadre che cercavano di realizzare una rete squadre che cercavano assolutamente di ottenere i tre punti perché questo incontro, questo match è veramente importante per queste due squadre alla fine della stagione quindi ci si aspettava un match di un certo tipo questa previsione è stata completamente rispettata in live abbiamo visto un match molto aperto sia da una parte che dall'altra con il Parma che fa del contropiede una delle sue armi migliori quindi cercava di spingere spesso con il Crotone ed è una partita che qui come risulta dal mercato è ovviamente risultato del profitto però quello che ci interessa capire a noi è che questa operazione di mercato ha questo over 2,5 questa strategia over 2,5 che viene emellantata da tanti ciarlatani ha delle fondamenta quali sono queste fondamenta? sono semplicemente che bisogna andare sul mercato e sfruttare quello che è il timing del mercato stesso quindi non solo andare a individuare la quota di valore che ovviamente è legata alla tempistica su cui entriamo sul mercato ma bisogna anche andare a vedere in maniera più dettagliata quali sono le ambizioni delle due squadre in live andare a vedere in maniera molto precisa cosa il match può offrirci sia in termini di valore operativo sia in termini di capovolgimenti di fronte sia come sono disposte le due squadre come è questa partita se può essere una partita nervosa qui vediamo tanti cartellini come giusto che sia perché il Crotone è passato in vantaggio e poi ha fatto il 2-0 con un gran gol un gol spettacolare quindi stiamo parlando di un Crotone che ha avuto però tante altre occasioni da gol e ha sfruttato forse le occasioni da gol meno pulite per realizzare il 2-0 poi Parma che ha chiuso con un gol di testa quindi stiamo vedendo un match estremamente particolare dove la strategia per due e mezzo millantata da tanti ciarlatani non funziona se applicata in maniera becero e meccanica ma invece ha nella suo svolgimento e nella sua logica tutta una serie di ambizioni per le squadre bisogna capire anche quando queste squadre solitamente sono solite appunto prendere gol o fare realizzare una rete e poi capire le ambizioni come sono disposte in campo i possibili cambi quest'anno abbiamo tante sostituzioni e quindi ragazzi è molto importante conoscere tutte queste dinamiche all'interno del match grazie a tutti